Pareggia in un festival di reti, l'acqua e sapone unigrosso difficile perché di Padova. Un 7 a 7 con Calderolli protagonista, tripletta e doppio giallo, un punto che fa scivolare i nerazzurri a meno 3 dalla capolista Pesaro, ma dopo la pausa il match che vale la prima piazza si giocherà al palarigopiano. Come i cugini, nemmeno la color Max Pescara, la deabbendata dalla sua parte, perde 1 a 2 col forte Dosson, ma un pari sarebbe stato ben più giusto. A Mantua nella prossima, peraltro, in uno scontro disperato per la classifica, ci si andrà senza un paio di pedine base. In a 2 cade in casa una tombese a corrente alternata, ma comunque ancora nell'area play-off in attesa di riavere Assad in campo. In B vince la DEM che, con i tanti recuperi, potrebbe benissimo inserirsi nella zona che conta. Donne, fermo in Ail Montesilvano, posticipata al 28 la trasferta di Statte, in a 2 il derby ad Avezzano va al Florida Pescara sull'Orione, mentre la capolista Francavilla fa un mezzo passo falso interno e ora è a più 2 dalle riminuisi della Romagna.